Ciao amici di Radio Ucci, io sono Giulia. In questo Focus Fisco parliamo del cosiddetto decreto legge carburanti perché nella giornata di ieri è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento interviene con nuove misure su tutta la questione dei rincari del carburante e proroga fino al prossimo 8 luglio il taglio delle accise. Ma non solo, l'intervento viene infatti esteso anche al metano. Nello specifico il testo del provvedimento prevede l'accisa 0 euro per metro cubo per il gas naturale usato per autotrazione, al quale viene applicata un'aliquota IVA stabilita nella misura del 5%. Inoltre il Consiglio dei Ministri conferma al Garante per la Sorveglienza dei Prezzi l'attività di monitoraggio antispeculazioni, che si potrà avvalere anche della collaborazione della Guardia di Finanza. Il Garante avrà il compito di monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico e, nel caso del metano, controllerà l'andamento nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. E per ora è tutto, al prossimo Focus.